Dal 17 al 20 ottobre, presso Fiera Milano Raw, si è svolta Mada Expo 2012, Milano, architettura, design edilizia. La Fiera internazionale dell'edilizia e del design apre oggi la quinta edizione. Compone Zencotra, come dice la parola, è un salone tematico dedicato alla componentistica e al contract. Come sapete, Mada Expo è la fiera dell'architettura, dell'edilizia, del design, prevalentemente nell'involucro edilizio, ma negli anni ci siamo occupati tantissimo di interior design. Interior design significa porte, pavimenti, tutto quello che è l'arredamento interno. Compone Zencotra è una novità in quanto che per completare la filiera dell'arredamento abbiamo voluto iniziare dai materiali. In questo stem, per esempio, vediamo delle superfici che vengono utilizzate sia per porte che per pavimenti, per voiserie, diciamo per i rivestimenti in generale della casa. Sicuramente abbiamo voluto completare l'offerta rivolta al mondo della progettazione, quindi studi di architettura, di ingegneria, di industrial design, qui trovano tutti i componenti necessari per portare il loro lavoro a termine. Una cosa molto interessante, quest'anno abbiamo creato un International Architect Lounge, e quindi siamo andati a trovare negli ultimi 12 mesi i maggiori studi di architettura in giro per il mondo. Gli abbiamo invitati qui, ovviamente a spese nostre, per poter incontrare gli espositori. Ed è, devo dire, una manifestazione unica nel suo genere, perché l'espositore ha la possibilità di registrarsi, di incontrare uno studio di architettura giapponese, o americano, o brasiliano, o indiano, qui in Fiera. È estremamente attuale e vivo, e questo ci fa tanto piacere, perché in un momento così, diciamo, critico per la nostra economia, il design italiano è vivo e vegeto, e anzi, questo salone è la dimostrazione che i nostri imprenditori non si arrendono alla crisi, continuano a investire, continuano a fare ricerca, e quindi è visibile, è visibile, palpabile.